buongiorno a tutti oggi mi trovo a lugano precisamente loreto e vi sto per mostrare questo tre e mezzo locali di 115 metri quadrati allora è stato rinnovato di recente quindi è stato inserito un grass porcelanato colore grigio nei bagni e nella zona appunto di soggiorno nel soggiorno come nella cucina allora entrando abbiamo un piccolo corridoio d'entrata ci troviamo nella prima camera camera singola qui hanno mantenuto il parquet camera di circa 12 metri quadrati sulla destra abbiamo purtroppo non c'è elettricità quindi non riesco a farvelo vedere nel dettaglio ma lo potete appunto vedere attraverso le foto qui abbiamo il lavabo bc e doccia questa parete con un comodo armadio a muro sulla sinistra ci troviamo la cucina semi abitabile e separata dalla zona soggiorno cucina molto ampia ad angolo qui abbiamo il forno a della calda ventilata a mezza altezza frigorifero sotto congelatore cappa con vetro piano cottura in vetro ceramica e da questa parte la lavastodichie all'appartamento è un trametto locali sono ammessi animali previo accordo con l'amministrazione e la metratura è molto generosa poi sulla destra abbiamo il secondo bc ospiti di secondo bagno con specchiera lavabo e bc sulla sinistra abbiamo praticamente due entrate che ci conducono alla zona pranzo e zona living dall'altra parte come vedete c'è una bellissima terrazza di circa 20 metri quadrati e dal soggiorno si può appunto ammirare questa vista e c'è una parziale vista lago ci troviamo appunto a loreto comoda come posizione comoda per tutti i servizi delle vicinanze vi è anche i mezzi ci sono i mezzi pubblici quindi comoda ovviamente per raggiungere il centro in pochi minuti e si trova appunto in una strada molto molto tranquilla a 30 il soggiorno è composto da due vetrate quindi con due uscite anche su questo comodo balcone come poi vediamo vedremo dalla camera matrimoniale sono stati appunto cambiati gli infissi la pavimentazione come la cucina e in ultimo abbiamo la camera matrimoniale di circa 16 metri quadrati con l'uscita appunto sul balcone di 6 metri quadrati ed è una camera matrimoniale con ampi spazi e all'interno vi è un angolo dove eventualmente si può inserire la propria cabina armato allora a disposizione dell'appartamento c'è una comoda cantina e la possibilità di avere in base alla disponibilità anche un comodo parcheggio in auto rimessa in caso comunque la zona è servita da zona blu da parcheggi appunto in zona blu da loreto è tutto se volete visionare questo tre e mezzo locali a lugano loreto contattateci ti affitto